I nostri ospiti, i nostri amici, stiamo per trascorrere un periodo dove cercheremo di conoscere meglio dei talenti, dei talenti salentini, delle persone che si fanno valere non solo qui nel Salento, ma in Italia e poi vedrete e capirete perché. Nel frattempo vi presento subito l'ospite di questa settimana che è un giovanotto, un giovanotto, un uomo, come ne vuoi dire? L'otto l'ho già superato, l'otto del giovanotto, quindi rimaniamo sul giovane, artista talentino che si chiama Fabio Perrone e che è come di presento, un fotografo, un fotografo, io preferisco essere definito fotografo perché insomma il mio primo amore è l'unico, rimane la fotografia, che è una cosa bellissima, ecco, è una cosa che a parte tutto, a parte tutto che? A parte il circondario insomma perché mi occupo anche di video e RGA, scusate, cinematografica, la fotografia rimane il mio unico amore perché nasco come fotografo, ho studiato fotografia, la mia formazione è stata apprettamente sulla fotografia e quindi sono un fotografo. Beh, no, no, dicevo, è probabilmente riduttivo perché so che fai anche dei video, dei fatti, li fai, li farai, sempre più bene, diciamo subito che tu hai fatto l'ultimo di Antonio Maggio, l'ultimo lavoro del festival di Salone, l'ultimo, che tra l'altro sarà...